Ciao a tutti, io sono Enrico, ho dieci anni e questo è Enrico Tech, il mio canale YouTube. Sul mio canale parlerò di tecnologia, principalmente di Android ma anche di iOS. Farò tutorial sui programmi, video riguardanti le ultime novità sui telefoni che usciranno e molto altro. Per scoprire molto altro su di me, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun video. Ciao!